buonasera f jinx t iscrivetevi al canale lasciate i vostri commenti e prima di cominciare grazie grazie perché abbiamo superato la soglia dei 200 followers cosa che mi rende particolarmente contento perché vuol dire che ci sono dei contenuti che sono ben condivisi e vuol dire questo canale sta crescendo e posso dire che insomma ci sono commenti interessanti a me poi piace rispondere commenti io li guardo uno per uno quindi a parte qualche cretino che viene ogni tanto a insultare viene immediatamente bannato perché voglio dire sotto questo aspetto non bisogna essere assolutamente tolleranti nel senso che nei confronti dei deficienti che vengono a insultare bisogna semplicemente voglio dire levargli il diritto a parlare se fosse così in tutte le democrazie voglio dire insomma ci sarebbe non ci sarebbe non ci sarebbero tanti problemi nella mia nel mio canale chi viene ad offendere viene immediatamente escluso ma parlando della parte buona oltre 200 iscritti grazie perché il canale cresce innanzitutto grazie a voi e perché io sono mi sono arricchito di tante sentendo tante opinioni tante idee ci ho avuto modo di arricchirmi e anche a volte di cambiare idea perché le persone intelligenti dal confronto sono disponibili a cambiare idea chi non è disponibile a cambiare idea purtroppo non è una persona intelligente la disponibilità a cambiare idea ovviamente deve essere il cambiamento di idea deve essere motivato da una diciamo da un'opinione che ci mette spalle al muro dice beh forse è vero a me è successo e quando questo succede io sono contento quindi grazie per aver superato con le vostre iscrizioni quota 200 oggi il napoli ha perso 4 a 0 in casa con il milan nella notizia del giorno ma onestamente mi sarei preoccupato di più se avesse perso 1 a 0 attaccando cercando voglio dire di e allora lì sarebbe stato preoccupante perché insomma non è riuscito nonostante ce l'abbia messa tutta a pareggiare ma 4 a 0 non è proprio giocato è anche comprensibile perché una squadra che sta attualmente voglio dire a 16 punti dalla seconda sulla carta che è la Lazio in attesa ovviamente sempre il 19 aprile casualità vuole che il 23 mi pare il 24 aprile subito dopo la diciamo la sentenza del collegio di garanzia del coni c'è Juventus Napoli ma beh era diciamo un fatto di cronaca non è che non ha nulla nulla di nulla di particolare oggi poiché insomma tempo perso mi sono messo mi sono divertito a fare un giochino ci ho preso la media punti delle ultime dieci giornate delle tutte le squadre compresa la Juventus e l'ho proiettata nelle prossime dieci giornate perché mancano dieci giornate alla fine del campionato quindi diciamo che ho detto vabbè vediamo un attimino che cosa succede se tutte queste squadre mantenessero la stessa media punti le ultime dieci giornate ci sarebbe Napoli campione d'italia dopo di più dopo di che avremmo lo sono segnato qua seconda Lazio terza e quarta Juventus e Roma o Roma e Juventus con la penalizzazione senza penalizzazione sarebbe Napoli seconda Juventus con 80 punti senza penalizzazione e poi terza Lazio con 76 con la penalizzazione primo Napoli non ho fatto manco il conteggio perché Napoli c'è una media di 2.7 punti a partita quindi voglio dire seguito dalla Juventus che c'ha 2.2 punti a partita e con la penalizzazione e con la penalizzazione primo Napoli seconda Lazio con 76 punti terza e quarta Roma e Juventus con 65 punti stando alla media punti delle ultime dieci partite se fate questo giochino vi accorgete che voglio dire è così quindi la Juventus rischierebbe se facesse come ha fatto le ultime dieci giornate di entrare in Champions League con la penalizzazione che insomma sarebbe un bello obiettivo ovviamente bisogna vedere perché comunque sia in questo momento gli obiettivi primari paradossalmente sono la Coppa Italia e la Europa League perché garantiscono automaticamente un posto comunque in Europa però io sono convinto che Allegri a furia di fare catenacci muri difensivismo di cortomuso di cortomuso e al quarto posto conquistato nonostante la penalizzazione ci stia pensando perché come l'ho fatto io questo calcolo l'avrà fatto sicuramente lui o glielo avranno sottoposto e sicuramente lo avrà se lo sarà stampato se lo sarà stampato in fronte non dico che è facile però e se oggi stasera mi va di di fantasticare ovviamente il Napoli è rilassato perché la seconda in classifica sulla carta è la Lazio che sta a 16 punti immaginate che Napoli le prossime due partite ce la mi pare una a Lecce e un'altra a in casa col Verona la Juventus c'ha due trasferte c'ha la domenica prossima la trasferta a Roma con la Lazio che è una partita secondo me dove non deve perdere la Juventus assolutamente se vincesse sarebbe meglio ma non deve perdere e poi c'ha diciamo e deve andare a giocare in casa della Lazio con i punti sul campo cioè lì deve andare a dire io sono la vera seconda in classifica e stasera ve lo dimostro come lo fa? Fa giocando in maniera difensiva ma se riuscisse a fare il risultato da seconda in classifica sul campo contro la terza sarebbe grande grande cosa il pareggio non sarebbe male la sconfitta sarebbe assolutamente da evitare ovviamente per non perdere contatto e poi la Juventus c'ha una partita contro il Sassuolo sempre fuori casa quindi diciamo che le due trasferte sono due partite molto difficili però mi veniva in mente immaginate che Napoli rilassato perché ci sta che si è rilassato cioè c'ha 16 punti di stacco dalla Lazio pareggi queste due partite prima della partita con la Juventus e che la Juventus rilinca tutte e due nulla di strano che Napoli andrebbe a 73 la Juventus andrebbe a 50 quindi dov'hai? e immaginate che il 19 stiamo giocando quindi ogni tanto è bello sognare sognare è molto bello quando c'è la consapezza di sapere dove ci si trova immaginate dicevo che il 19 per un'illuminazione e per un'onestà intellettuale l'organo di garanzia del CONI restituisce alla Juventus i 15 punti quindi ci troveremmo praticamente il 19 sera con il Napoli sempre a 73 e la Juventus a 65 giusto? e due giorni dopo o quattro giorni dopo mi pare c'è la partita Juventus-Napoli e immaginate visto che ci stiamo divertendo che la Juventus finca quella partita sarebbe carino perché poi a sette giornate dalla fine sei a cinque punti che sono tanti ma non sono troppi sarebbe carino sarebbe molto carino i miei amici napoletani mi ucciderebbero però sarebbe carino certo stiamo sognando ragazzi probabilmente la Juventus non vincerà tutte e due le partite anzi probabilmente il Napoli vincerà la partita sicuramente contro il Lecce e contro il Verona e quindi voglio dire la Juventus magari se le vince tutte e due si presenterà comunque anche se le danno i soldi i soldi spero che gli righiano con la causa contro la FIGC di 450 milioni di euro anche se gli danno i punti si presenterà a 12 punti però voglio dire immaginate succede una cosa del genere beh lì voglio dire insomma sarebbe sarebbe interessante sarebbe interessante vedere era diciamo così un modo per per dire che il calcio si dice sia uno sport montato dal diavolo perché a volte le cose impossibili accadono e se la Juventus rimane facendo discorsi più realisti mantenesse la stessa media punta le ultime dieci giornate finirebbe il campionato al quarto posto al terzo posto pari punti con la Roma adesso non so la differenza reti come andrebbe a finire finirebbe comunque sia finirebbe Marcheva quarta e quindi qualificata per la Champions League questa è la realtà ecco perché secondo me la Juventus è giusto che faccia più punti possibile poi ci sta il secondo filone bla 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 questo voglio dire lo so si discuterà però per il momento fare più punti possibile è l'unica cosa che conta senza nessun dubbio poi probabilmente Allegri se ne andrà perché proprio oggi sentivo che c'è una non è tanto attratto dallo cioè lui diciamo che gli piacerebbe anche l'Inter di Marotta perché a lui lui è il pupillo di Marotta e Marotta è un dirigente che lui apprezzo tantissimo lui ha fatto anche parecchie diciamo collaborazioni ho avuto con Marotta in convegni quando diciamo ha lasciato la Juventus quindi e diciamo si conoscono e si apprezzano a vicenda quindi lui non dispiacerebbe andare all'Inter tra l'altro l'Inter diciamo che sulla carta ha dei giocatori che ad Allegri piacciono un po' di più nel senso che sono già voglio dire esperti come piacciono a lui no? non deve insegnargli nulla non c'ha la diciamo l'imposizione di utilizzare i giovani però quello che a lui lo sta e che sicuramente gli farebbe anche diciamo dare le dimissioni senza nessun problema è un'offerta che pare molto concreta del Paris Saint Germain di 12 milioni di euro all'anno un contratto biennale e lì lui andrebbe innanzitutto ci andrei anche io perché vivere a Parigi due anni è un'esperienza con quello status economico è diciamo un'esperienza di vita unica e lo ha detto anche Buffon Buffon ha lasciato la Juventus per un anno e poi ci è tornato per andare a Parigi a vivere insomma quindi credo che non credo che ci siano voglio dire grossi problemi cioè a capire io se fossi allenatore della Juventus io personalmente Juventino mi offre di andare a lavorare a Parigi due anni andrei senza nessuna senza nessuna discussione quindi e poi la squadra del Parigi San Germain è la classica squadra di quei allegri che piace ad Allegri una squadra di giocatori bravi esperti dove lui deve soltanto voglio dire gestire e lo sa fare molto bene questo non penso che sia contestabile di sicuro di sicuro il Parigi San Germain non si prende non si prende il palladino e il De Zerbi non li prende questi qua perché il Parigi San Germain vuole allenatori che siano bravi appunto a creare armonia in un gruppo di campioni non allenatori che vanno là e pigliano Mbappé e lo chiudono in uno schema tattico voglio dire capito oltre al fatto che un altro indizio molto forte che Allegri potrebbe andare al Parigi San Germain è che Rabiot ci sono voci che vogliono Rabiot al Parigi San Germain che Rabiot dice vabbè poi ne parliamo e considerate che Rabiot lo volle Allegri cioè Rabiot fu comprato quando Allegri si era sulla panchina a Juventus e non si sapeva che sarebbe dovuto essere scelleratamente esonerato quindi Rabiot lo voleva Allegri e questo collegamento questa diciamo affinità di destinazione della tra i due mi fa pensare che probabilmente affinavano a Catà cosa che di cui io sono contento perché sono convinto che in questo momento Allegri non è adatto a questa Juventus e a questa situazione assolutamente così però come sono convinto che l'allenatore che verrà per valorezzare i giovani avrà bisogno di tempo e spero che i tifosi della Juventus che oggi non vedono l'ora che Allegri se ne vada sappiano che non verrà Zidane non verrà Klopp non verrà Guardiola non verrà nessuno di questi qua ma verrà un allenatore alla Tudor che sembra sempre più candidato o un allenatore alla Palladino ma non di più De Zerbi non ci pensate proprio perché alla Juventus sono d'accordo gli anarchici non piacciono se io ti assumo tu lavori per me e fai quello che dico io altrimenti prendi la strada e pagati da solo De Zerbi è uno che pretende di essere pagato dalla società e di fare quello che vuole e questo alla Juventus non accadrà mai però diciamo chiunque altro venga io so e sono disponibile a darglielo che questa questa persona avrà bisogno di tempo e non parliamo di settimane ci vorranno mesi forse anni per poter creare qualcosa soprattutto se devi lavorare con i giovani su questo non ci sono dubbi ma la cosa a me fa piacere perché se questo poi vuol dire avere una società sana io sono d'accordo cioè a me va bene perché in questo sistema calcistico puoi vivere soltanto con i giovani valorizzare e vende valorizzare e vende e mentre li valorizzi vinci con loro punto dopodiché via quindi voglio dire tra l'altro è un calcio in cui le bandiere hanno un valore molto relativo nel senso che voglio dire non è che non è che è un calcio di sentimentalismi non abbiamo più il giocatore che rifiuta le offerte di tutti per rimanere nella squadra del cuore come fece Scirea come fece Platini Platini rifiutò nell'86 un miliardo di lire di Berlusconi all'anno perché lui voleva chiudere la carriera della Juventus e rinnovò la Juventus per un altro anno alla metà di quello che gli aveva offerto Berlusconi e questo fu dichiarato non da Platini fu dichiarato da Berlusconi quindi presuppongo che sia vero altre novità ovviamente usciranno in settimana si parlerà ovviamente di questo avvicinamento alla data al collegio di garanzia del CONI ma per fortuna siamo ritornati ogni sei giorni a parlare di calcio giocato anzi nel nostro caso dopo domani voglio dire domani per chi vede questo video in Italia voglio dire è già un'altra importante partita contro l'Inter per la per la qualificazione alla finale di Coppa Italia bene detto questo io vi ringrazio di nuovo per le 200 iscrizioni iscrivetevi al canale lasciate i vostri commenti se volete questo ve la dico stasera attivate la campanella così avrete la notifica di quando il video viene pubblicato FGinxT buonanotte grazie a tutti